Questo video riguarda i migliori tre lampade a infrarossi. Il vincitore della qualità è il Beltom Lampada Termica. La lampada è concepita per eseguire trattamenti terapeutici. Allevia il dolore causato dall'infiammazione dei muscoli e aumenta la circolazione sanguigna. Potenza lampada regolabile fino a 275 W, può essere adoperata in qualsiasi centro estetico specializzato, in studi di fisioterapia, in saloni di bellezza e anche direttamente in casa per un uso personale. Il design è stato realizzato al fine di soddisfare tutte le esigenze. Infatti la lampada presenta due assi in ferro che possono essere regolati in qualsiasi direzione. Viene fornito in dotazione un morsetto che può essere adoperato per agganciare la lampada e renderla utilizzabile su diverse superfici. Per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza e qualsiasi tipo di trattamento, è possibile regolare l'intensità del calore e della luce tramite il Beamer che permette di intensificare con facilità la potenza. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Beurer i50. La lampada a raggi infrarossi Beamer i50 aiuta efficacemente in caso di raffreddori, contratture muscolari o malanni di stagione. Il calore, trasmesso al corpo attraverso l'irraggiamento, aumenta il metabolismo e stimola la circolazione favorendo rapidamente il processo di guarigione. La luce a infrarossi può inoltre essere utilizzata come supporto di bellezza, in particolare in caso di pelle impura. Il dispositivo è molto comodo da utilizzare e consente un trattamento personalizzato grazie all'ampia superficie della lampada, coperta da una lastra in vetro ceramica di alta qualità, che permette di trattare zone del corpo più estese e all'inclinazione regolabile in modo continuo. Il timer digitale regolabile e la funzione di spegnimento automatico garantiscono un utilizzo in tutta sicurezza, nel rispetto delle tempistiche consigliate per l'esposizione ai raggi infrarossi. È un dispositivo medico Il vincitore del premio è l'FB Shot Lampada infrarossi professionale con effetto in profondità, per cure di bellezza e salute direttamente a casa vostra, con interruttore on-off, i raggi infrarossi diffondono un calore che dona sollievo alle tensioni muscolari, ai sintomi del raffreddore e ai problemi circolatori. Lampada Philips di qualità 150 W con vetro pressato resistente, angolo di irradiazione ottimale regolabile, connessione a presa di corrente 230 V, spazio per cavo nella base della lampada, base ampia per supporto stabile, made in Germany, contenuto, una lampada infrarossi con interruttore e FB Shot, una lampadina Philips, 150 W, inclusa, modo d'uso, dimensioni, 24 x 17 x 13 cm, colore, bianco, SCIR 812ZS. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.